Torna con la seconda edizione il progetto Donne Rinascita, realizzato dall'associazione Big Match in collaborazione con la provincia di Teramo, il centro antiviolenza alla Fenice e le scuole. Un'idea di street art curato dall'artista Gedo Ivan Pilogallo che ha visto nella sua prima parte il coinvolgimento degli studenti della terza A del liceo artistico di Teramo. Un progetto nato due anni fa, rallentato per i noti problemi che sappiamo, grazie al bando della fondazione Tercas Ricomincio da te, noi abbiamo partecipato insieme al centro antiviolenza alla Fenice per questo progetto Donne Rinascita, la seconda edizione. Si conclude qui la prima parte che era quella dedicata alle scuole, agli incontri con le classi del liceo artistico e la realizzazione di un murale all'interno del centro della Fenice. Conclusa questa prima parte inizierà la seconda fase che riguarderà la realizzazione di murales su due cabine ele, grazie ad un accordo con e-distribuzione che sta trasformando le cabine elettriche in vere e proprie tele d'artista. Il mio interesse e il mio progetto sarà quello di incrementare con a breve la nomina della nuova CPO e della nuova considerata di parità affinché siamo proprio noi come provincia ad entrare nelle scuole insieme alla CPO per cercare di educare i giovani alla non violenza e soprattutto al rispetto sia delle donne che degli uomini, al rispetto reciproco perché la violenza è sbagliata in tutti e due gli ambiti. Questo progetto è stato molto importante per noi poiché esso tratta un argomento come quello della violenza sulle donne che noi abbiamo realizzato nel mezzo del caos, possiamo dire, come può essere quello della vita di tutti i giorni, perché questi eventi accadono e non bisogna ignorarli. Vengono rappresentati molti elementi che possono essere sia tipici della violenza sulle donne ma anche che possono rappresentare delle passioni che una donna può avere e sono tutti uniti da un filo rosso ma anche abbiamo i cuori che sono il punto focale dell'opera e che vogliono rappresentare una rinascita della donna che dopo aver sofferto riesce a sorridere di nuovo grazie a delle persone pronte a capirla ed aiutarla.